carissimi amici appassionati calcio oltre manica eccoci puntuali Luca buonasera oggi sono con adiuvato dal mio caro Luca come va Luca tutto bene? Tutto a posto, tutto a posto. Benissimo siamo belli carichi per questo consueto appuntamento settimanale con la diretta di redazione abbiamo un po' di cose da dire caro Luca e permettimi permettimi di iniziare con la novità più importante dell'anno già dire che questa è la novità più importante dell'anno perché siamo orgogliosi di annunciare che Uke Calcio ha la sua app un'app che è disponibile gratuitamente sia su e ora ve lo facciamo vedere perché noi non diciamo bugie sia su app store eccola vedete qui che su play store quindi la potete scaricare gratuitamente sui due principali store che abbiate insomma android o un dispositivo apple e quindi l'app è qui per voi e potete ecco anche Luca la sta facendo vedere Luca vai falla vedere questa app eccola qui ecco qua bianco su bianco ecco qua però si è visto si è visto benissimo quindi è una è un'app che esiste davvero ecco questo abbiamo abbiamo appurato che esiste davvero l'app quindi scaricate l'app non sono fake news non sono fake news scaricata perché è utilissima mi consente di avere delle notifiche vi aggiorniamo quasi in temporale su quello che accade così potete non vi perdete neanche un contenuto di Uke Calcio e potete seguire per esempio anche le dirette come questa diretta che stiamo trasmettendo la potete seguire comodamente da app e questo è un invito che giro anche a chi ci sta seguendo sul tiktok quindi scaricate l'app Uke Calcio la dovete scaricare per forza non può mancare questa app sul vostro telefono no Luca così eh sennò che appassionati di calcio oltre manica siete eh non c'ha senso non c'ha proprio senso va bene detto ciò detto ciò che poi ci ritorneremo su questo argomento torniamo veniamo a noi perché io noi come sempre partiamo con la Premier League Luca allora in Premier cosa è accaduto questa settimana settimana abbiamo il Manchester City ora impegnato tra l'altro in Champions League questa sera contro il Copenaghen gara che credo che si è iniziata da pochi minuti peraltro sì sì credo che sì perché ho visto la notifica quindi eh sì è iniziata da poco e che però in campionato sta eh facendo si sta sta tornando alla grande eh dobbiamo dire eh quindi insomma non non è una cosa da poco una gara da recuperare anche e anche una gara da recuperare esatto quindi come vedete la classifica eh refita Liverpool 54 Manchester City Arsenal e Arsenal 52 sembra che non so tu che ne pensi però eh si sarà probabilmente una gara tre almeno per ora eh per ora eh per ora abbiamo eh sì abbiamo tre poli e che e credo che resteranno tali fino alla fine insomma un discorso a tre anche perché il Tottenham è una squadra un po' troppo eh sì è discontinuo diciamo è discontinuo troppo altalenante non riesce a trovare una continuità l'Aston Villa comunque sta lì però eh sembra in caduta diciamo in caduta comunque già il fatto che stia lì è qualcosa di una buona cosa già una buona cosa il Manchester United sta ritornando si sta riprendendo in ripresa sempre in ripresa poi con il Manchester è difficile dare una una visione molto molto difficile però insomma più di questo ecco diciamo il Manchester United più che altro può mirare a un piazzamento in Europa esatto eh visto la visto come è andata la stagione sarebbe già un grande risultato assolutamente eh intanto qua si riavvia da solo il la classifica e invece per quanto riguarda la situazione in zona della processione qui eh la questione è ancora più ingarbugliata anche perché nell'ultimo nell'ultimo turno lo Sheffield United ha vinto fuori casa contro il Luton ma tu te l'aspettavi questo risultato più un pareggio più un pareggio è proprio nelle ipotesi più strane diciamo la vittoria no la vittoria in effetti no è un risultato che ha sorpreso molto e diciamo che contribuisce a rendere la classifica ancora più corta e combattuta perché come vedete insomma sono tutte lì ora è vero che il Burley e lo Sheffield sono sono sì sono più giù più staccate però eh comunque dall'Everton fino al Crystal Palace sono tutte coinvolte nella lotta salvezza sarà sarà grande grande bagarre anche io dico fino al quindicesimo posto siamo lì è trafficata come zona poi tra l'altro un altro risultato molto particolare sarà la vittoria del Brentford contro il Wolverhampton fuori casa questo è un altro risultato che è stato un weekend con parecchi risultati inaspettati eh sì parecchi risultati inaspettati quindi aspettati perché dai questi sgambetti questi è imprevedibile come prenderli quest'anno chiaramente quest'anno è complicatissima da prevedere e questo sette giorni fa c'è stata una partita diametralmente opposta e poi una caduta inaspettata cioè quindi molto difficile molto difficile dare una un'idea di avere un'idea di quello che può accadere perché non c'è una continuità diciamo no non c'è una continuità non c'è non ovvero diciamo che le squadre coinvolte si sa quali sono però poi però ogni ogni giornata si ribalta tutto per esempio ripeto la vittoria dello Sheffield è stata assolutamente inaspettata no no non mi aspettavo sinceramente poi da una squadra che ha subito si fa fatica a far gol ne subisce tantissime 60 gol ha subito sono tanti 60 gol in 24 partiti sono proprio tanti e ne riesce a segnare tre a una squadra che era assolutamente in forma come Luton poiché Luton è in difesa abbastanza rognosa sì sì infatti cioè comunque è una squadra messa sempre molto bene in campo tiene tiene bene il campo eppure è riuscito a prendere del gol questo conferma ancora di più la teoria secondo cui questo è un torneo veramente imprevedibile quest'anno forse più di tutti Luca ci è voluta la redazione per fare un campionato così noi siamo spettatori di questo campionato pazzo diciamo ma super pazzo veramente imprevedibile impressionante così come impressionante è stata la vittoria dell'Arsenal su West Ham è una debacle della mamma mia non mi aspettavo cioè mi aspettavo la vittoria dell'Arsenal ma non a questi termini no a questi in questi a questo livello no perché comunque tipo 2 a 1 3 a 2 sì qualcosa di più combattuto invece una gara già finita primo tempo primo tempo già finita 40 minuti già 4 a 0 se non ricordo male quindi veramente adesso bisognerà vedere abbiamo avuto ospiti tifosi del West Ham proprio giovedì scorso bisogna vedere la decisione o meglio con Moyes cosa si intenderà fare perché questa è una sconfitta veramente brutta molto brutta sì sì nel derby quindi un match in casa in casa sì 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 quindi veramente un una una figuraccia ecco gli elementi di un cambiamento di uno scossone ci sono diciamo eh sì ci sono tutti e vediamo vediamo la società cosa deciderà io non ho letto nulla in merito per ora non ci non ci sono idee di cambi di guardia almeno per ora insomma in Inghilterra diciamo che non è come in Italia che c'è più ad esempio anche tenaghe sembrava il panettone dicevamo eh sì perché tanto sembrava e alla fine no si temporeggia diciamo sì si temporeggia si dà si dà tempo un po' di anche come dire passati di riequilibrare di passare quelle tempeste no che poi fondo ci può ci possono essere dei periodi no poi si si dà il tempo forse noi in Italia siamo un po' più abituati che appena le cose vanno male diciamo dopo tutte le giornate già cominciamo bisogna sì 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 esatto sbattere i piedi c'è ora è ora di cambiare via e si cambia però in Inghilterra si sa non è così si dà tempo e quindi si è completamente completamente diversa un po' su tutto una squadra un po' strana pure il Brighton che non riesce sembrano scarichi 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 anche di testa ma secondo te non è un po' non si va ridimensionare un po' De Zerbi quest'anno oppure quando te fai una stagione come l'anno scorso super diciamo ripetersi non è facile no non è facile le spettative sono sempre alte rispetto cioè fermare sarebbe la miglior cosa alla fine più o meno certo sì sì questo tipo io vedo il Brighton e Newcastle che sono quelle che stanno un po' arrancando eh si stanno arrancando stanno arrancando abbastanza a me se ne parlava un po' anche la settimana scorsa Newcastle mi aspettavo molto molto di più cioè almeno nel quinto posto mi aspettavo eh sì sì almeno in lotta per il quinto posto adesso a dieci punti di distanza che sono sono pesanti diventa sempre più complicato recuperarli più avanti sono usciti dalla coppa in Europa neanche in Europa League una reazione c'era un po' doverosa invece li vedo proprio fa dei risultati buoni poi dopo ne fanno brutti cioè cioè non vedo continuità eh sì infatti non è non è proprio il massimo poi hanno avuto un sacco di infortuni questo va detto sono stati flagellati da infortuni però sì sì vero 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 però pure qua insomma se tu vai in Champions c'è una certa come dire determinato come posso dire un obiettivo avresti dovuto anche tarare la rosa sulla base di diciamo degli obiettivi che vuoi mantenere raggiungere perché adesso Newcastle si trova fuori fuori dopo dopo aver festeggiato la Champions una stagione fantastica adesso quest'anno rischia di stare fuori dall'Europa brutta brutta mazzata brutta mazzata sì per i tifosi insomma anche per a livello di progetto futuro insomma assolutamente non è una cosa da poco salutiamo il nostro caro Lerli che ci dà un un aneddoto lui è assolutamente specializzato in aneddoti quindi visto che si parlava giustamente di Champions League all'inizio il ricorda il 13 febbraio 2001 Leeds United Anderlecht 2 a 1 Lady per il Liliwise di Jan Hart su punizione a tre dalla fine gol vittoria di Lee Boyer Leeds poi arriverà in semifinale grazie a Lerri del del tuo solito preciso aneddoto ti ringraziamo e ti salutiamo tanto e in Champions League chiaramente il Manchester City che sta vincendo sta già vincendo ma io ora chiaramente siamo siamo qui in diretta non stiamo vendendo la partita però vi daremo conto di questa partita nel a fine proprio al novantesimo per un riepilogo utilissimo su come è andata la eh sì su come è andata la gara e ha segnato De Bruyne ormai il fatto che De Bruyne sia ritornato si è ritornato a grandissimi livelli veramente veramente a grandissimi livelli dopo un infortunio non simpatico eh sì direi proprio di no quindi eh tornare così in questo modo De Bruyne potrebbe essere la vera svolta eh sì perché col fatto che il City eh era partito un pelino un po' eh profilo basso però per me il City è un diesel cioè sembra che a scoppio ritardato è vero sembra che la preparazione sia stata fatta in funzione di sembra proprio di sì anche perché ripeto il rientro di De Bruyne è stato fondamentale eh sì perché ha dato quella quella svolta in più quella svolta in più quel gioco e quella quella marcia sì però una svolta una marcia in più veramente interessante e potrebbe essere ripararsi fondamentale eh sì proprio il proseguo della stagione quindi il City sta vincendo e ha almeno fino a questo momento assolutamente dominato eh primi minuti di dominio totale c'è un 78 c'è un no di più anche ora qua non vedo bene le statistiche però c'è un dominio totale sul possesso palla vediamo un attimo se riesco a rivedere le statistiche eh no non le riesco a trovare al volo però comunque in ogni caso c'è un dominio incredibile del City però non è che la cosa ci come dire ci eh ci sorprenda più di tanto perché sempre City so Copenaghen già che è riuscito ad arrivare lì è un miracolo eh sì sì il City è comunque lotta contro se stesso per me il peso di aver vinto tutto può essere un bene o male diciamo è infatti proprio questo che ci dice il nostro Lorenzo che salutiamo e la partenza soft del City era anche tutto il fatto che ha vinto tutto questo considerazione più che condivisibile noi tra l'altro questo è un tema che abbiamo pure affrontato all'inizio stagione perché poi quando vinci tutto eh dopo che stimoli hai eh che stimoli hai cioè che cioè ripetersi quando vinci tutto non è mica facile ah no almeno una cosa ripetersi su una cosa su tante cose vinte non è facile eh no assolutamente no quindi il Manchester City eh comunque sta dimostrando di essere una squadra una grandissima squadra nulla da dire altronde ha super giocatori i risultati parlano assolutamente sì e poi la cosa incredibile come dicevamo inizio è ritornata alla grande anche in campionato quindi proprio in forma campionato eh va verso il giro di boa diciamo eh sul final di stagione avvincente diciamo eh molto 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 avvincente molto avvincente quindi tutto questo fa bene a noi e siamo felici assisteremo a un finale di stagione meraviglioso ma abbiamo tanto da vedere benissimo Luca io direi a questo punto passiamo al tuo campionato quindi la scena è tutta tua eh perché si parla di di championship con una gara la gara in particolar modo che tu hai eseguito nell'ultima giornata appena trascorsa sul con lo Sheffield Wesley che ha eh preso tre punti molto importanti contro il Birmingham che noi noi ne parliamo sempre di questo Birmingham ormai 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 sì ormai cioè è diventata veramente sembra che noi non è che ce l'abbiamo col Birmingham però però insomma una squadra che era partita alla grande e poi è arrivato Rune insomma è stato successo quello che è successo e Mowbray sembrava per Luca ripreso un attimo raddrizzato un attimo il tiro esatto però adesso eh sta ricadendo di nuovo nel nel diciamo nel nella sindrome da Runei quasi il fantasma è tornato fantasma di Runei esatto ancora più giusta questa cosa allora raccontaci un po' cosa è accaduto nell'ultima giornata partita non bellissima eh non mi aspettavo una partita brutta così cioè come lo Sheffield contro il Birmingham mi aspettavo una partita più combattuta vista la zona classifica diciamo quindi eh lo Sheffield ha vinto e quindi è come lo Sheffield United e l'altro Sheffield sono messi d'accordo hanno vinto entrambi inaspettatamente eh punti pesanti lo Sheffield anche loro in classifica sono messi malino però anche lì la classifica nella championship è molto combattuta nella zona salvezza eh eh sì molto combattuta eccola qui la classifica tra l'altro stanno giocando stanno giocando adesso esatto ci sono delle partite stasera e domani stasera e domani ci sono alcune gare quindi stiamo anche vedendo un po' in diretta i risultati sta giocando il Leicester che sta vincendo tanto per cambiare già sta vincendo infatti ne avremmo parlato proprio adesso di questa squadra e come dicevi tu questa è la situazione in eh zona retrocessione anche qui è molto combattuta non c'è un bel assembramento eh sì qui veramente un grande assembramento qua più della Premier diciamo sì molto più della Premier qua il livello come siamo sempre abituati in questo torneo eh molto eh veramente giocano tutte eh sul filo del rasoio e ogni ogni gara è definirla sì fondamentale definirla imprevedibile anche è anche riduttivo perché ci possono essere gli stravolgimenti continui eh quindi questa è la situazione in bassa classifica risalendo vediamo così la faccio vedere bene in alto invece abbiamo il Leicester di Maresca che ormai è una realtà Luca che dici? Ormai l'incidente di percorso della retrocessione è un lontano secondo me sì è così incubo diciamo sì è vero incidenti di percorso sì è vero i punti ormai non dico è fatta perché ormai però solo loro possono perdere perché ormai hanno un margine talmente alto vedo il Leicester e il Southampton che si giocano il secondo terzo posto attualmente sì assolutamente sì assolutamente sì diciamo che i punti sono dodici sono tanti punti dodici punti sono veramente tanti e anzi se vogliamo dalla terza 13 punti perché le prime due salgono direttamente in Premier League quindi diciamo che un piede non un piede e mezzo ma forse un piede già ce l'ha veramente veramente può solo che perdere questa questa promozione posso solo buttarla loro sì assolutamente sì assolutamente sì invece discorso ben diverso è come sempre non solo per come dicevi giustamente tu per il secondo posto che garantisce una promozione diretta anche se qui probabilmente sì la lotta sarà due tra Leeds e Southampton ma che in questo momento l'altro Leeds ha scavalcato il Southampton con questa vittoria e invece chiaramente poi c'è la bagarre per la zona playoff playoff lì anche lì c'è una bella bella bel traffico è veramente un bel traffico soprattutto per l'ultima posizione playoff dal Norwich insomma fino al Watford forse fino a 47 squadre è difficile perché sei squadre in sette punti otto punti veramente è molto difficile a fare un pronostico dire sarebbe bello una finale così io dico così così nostalgico il Sunderland contro il Middlesbrough eh sì questo sarebbe una bella finale una bella finale però il Middlesbrough lo vedo che è un po indietro un po indietro un po indietro ha perso un po di terreno dopo però una bella finale vecchio stile eh sarebbe sarebbe bello sarebbe assolutamente bello tra l'altro bisogna fare anche i complimenti al Coventry Coventry che sta risalendo eh sì sta risalendo la china alla grande perché era proprio messo una perde l'altro vince se c'è proprio e così un sali scendi sì poi con i tre punti sappiamo bene che una è facile tornare arrivare lì assolutamente sì bastano un paio di vittorie e ti trovi in zona playoff in un attimo sì come bastano due sconfitte e sì ti trovi giù e devi e ti ritrovi a lottare di nuovo per non per non retrocedere basta veramente poco basta poco anche e qui ci trasferiamo passiamo da un campionato all'altro basta poco anche a Larne in Irlanda del Nord ricordiamo gare che potete seguire su OneFootball che le fa vedere gratuitamente quindi è curioso anche poter vedere questi tornei noi li seguiamo però insomma mi invitiamo a darvi a dargli un'occhiata presto chissà Luca un giorno potremo dire Uge Calcio fa vedere gratis la non lo so la Scottish League One perché no magari non lo so chi lo sa mai dire mai noi ci proveremo e ci proveremo sempre e dicevamo in Larne ha battuto il logo è riuscito a scavalcare l'infield ed è primo ed è primo quindi un è stata una rimonta incredibile quella dell'Arne che ha tallonato l'infield fino all'ultima fino alla scorsa giornata e il l'infield ha pareggiato due a due contro il Glenavon e il Larne è riuscito ad approfittarne anche qui eh a fine gara Donnelli ha chiaramente ribadito in sala stampa in conferenza stampa come la sua squadra ci creda e i risultati di diciannove risultati utili consecutivi dell'Arne in premiership sono un po' lo specchio di una squadra che sta bene di una squadra che forse per come sta giocando ora potrebbe eh mantenere questo stato di forma anche fino al termine della stagione certo anche lì eh il campi la classifica eh è le prime tre sono molto sono tutte vicine e quindi anche il Cliftonville che ha ha vinto 4-1 contro il Cloren è terzo quindi sono tutte veramente veramente lì le prime tre anche in questo torneo è avvincente perché comunque sono tre squadre che lottano per per vincere il titolo e se la giocheranno fino all'ultima giornata invece caro Luca eh venerdì inizia un altro campionato d'oltremanica che è stato fermo per la pausa annuale ovviamente sto parlando della League of Ireland che apre i battenti proprio venerdì eh con la prima con la prima giornata ovviamente la League of Ireland ha un formato che ricalca un po' è un campionato estivo un torneo estivo e ricalca un po' il nord Europa ormai da parecchi anni ha preso questo format quindi è tutto pronto per la nuova stagione sarà veramente interessante seguire sia lo Shamrock Rovers che tenterà di battere un altro grande record cioè quello di vincere eh unica squadra eh irlandese mai mai nessuna mai c'è riuscita cioè cinque titoli consecutivi a vintiquattro fino adesso anche se l'anno scorso non è che sia stato poi così brillante forse ha vinto più per demeriti altrui che per meriti propri e sarà anche interessante seguire eh leggessa del delle neopromosse tra tutti il Galway United che eh tra l'altro avrà un esordio il venerdì sedici venerdì alle venti e quattro ci conto il St. Patrick's quindi una eh gara eh per nulla semplice tra l'altro e questo non lo avevamo preparato però penso che lo riusciamo a recuperare abbastanza ecco velocemente le ultime parole famose diciamo sì perché c'è stata una eh la prima eh la prima competizione della stagione in Irlanda vediamo se la riesco a trovare ora non la riesco a trovare più non so perché eh la Presidents Cup eh che è stata vinta manco a dire dallo Shamrock Rovers non non trovo l'articolo mi sta sfuggendo l'articolo però vediamo andiamo nella sezione sì sì nella sezione Irlanda del Nord facciamo molto prima eccolo qui la Presidents Cup vinta dallo Shamrock Rovers scusate il primo trofeo della stagione è la super a tutti gli effetti la Supercoppa d'Irlanda e Shamrock Rovers che ha battuto proprio il St. Patrick's per tre a uno anche qui una gara abbastanza senza uno quindi lo Shamrock Rovers inizia nel migliore dei modi della propria stagione e si prepara al meglio quindi alla stagione che ripeto inizierà venerdì e eh un'altra iniziativa importante dello Shamrock Rovers è quella con Women's Aid che è un'associazione che è impegnata alla sensibilizzazione per la sensibilizzazione sensibilizzazione scusate contro la violenza domestica e quindi c'è stato un accordo perché chiaramente anche lo Shamrock Rovers ha una squadra femminile e quindi un questo accordo prevede eh che il cinquanta per cento di tutti i ricavi degli abbonamenti della squadra femminile sarà versato direttamente a Women's Aid eh quindi una iniziativa importante anche per il calcio femminile irlandese che Luca immagino che tu non lo segua questo calcio femminile irlandese o hai visto qualcosa? Ho incrociato durante la i preliminari di Champions League. Ah hai avuto diciamo un incontro ravvicinato. Esatto diciamo. E che ti è sembrato? Ma ancora è molto rispetto le altre realtà di oltre mani che è ancora un po' indietro diciamo. C'è molto acerbo diciamo cosa diciamo cosa ti ha colpito di più? Ma è una questione di organizzazione cosa in particolare? Ah organizzazione proprio quindi? Sì ancora sono le prime armi diciamo. Ah ok. Un po' come dire diciamo un po' come il Galles diciamo un po'. Ah ho capito ho capito. Sì sì sì. Un po' livello quello lì diciamo. Ok ok. E a proposito di diciamo di calcio femminile di cui tu ti occupi alla grande c'è stata la Women's FA Cup quindi abbiamo dato hai dato spazio alla Women's FA Cup raccontaci un po' che cosa è successo. È successo che c'è stato lo scontro diciamo tra il City e l'Arsenal diciamo è stato uno scontro tra Big che in campionato sono diciamo le rivali del City e del Chelsea diciamo perché una è seconda e l'altra terza in classifica e quindi è stato un Big Match che l'ha portata a casa è il City e nonostante l'Arsenal abbia giocato meglio rispetto al City però il City è molto squadra nel senso che non ha molti sì cioè non gioca sui singoli gioca sulla squadra ha molto lo stile di gioco del Manchester City maschile. Ah stesso stile di gioco? Stesso stile di gioco. Ma tu vedi favorito chi per l'FA Cup? sempre il Chelsea? O il Chelsea o il City. O il Chelsea o il City quindi potrebbe esserci una finale. Tu sul nostro gruppo Facebook che calcio Clubhouse che vi diamo ovviamente a iscrivervi avevi commentato con gli accoppiamenti dei quarti di finale ma ti ricordi per caso com'erano? Allora... Vabbè giustamente dobbiamo andare a vedere perché è un po' complicato risultarsi. C'è stato anche il sorteggio dell'altra della League Cup quindi di conseguenza due sorteggi... Due sorteggi insieme un po' di un po' di caos. Aspetta vediamo se se la riesco a trovare io a ritrovare al volo lo diciamo subito. Eccolo qua allora il sorteggio sarà 10 marzo si giocherà ai quarti di finale quindi Tottenham Manchester City, Liverpool, Leicester, Brighton, Manchester United e Everton, Chelsea. Vabbè quindi le vade City e Chelsea che secondo te passeranno? Esatto. Liverpool, Leicester, Brighton e Manchester United come le vedi? Lo United è discontinuo come singoli come l'Arsenal e sono le squadre più forti come singoli ma come squadra rischiano di fare delle configurazioni nel senso di non passare. Di non passare il turno quindi comunque tu vedi una finale Chelsea-Manchester City. Sì addirittura venerdì questo riparte il campionato e c'è il big match Chelsea-City. Ah quindi occhi puntati su questo super match. E poi sempre questo weekend del campionato femminile c'è l'altro incrocio Arsenal-United quindi c'è la prima contro la seconda e la terza contro la quarta. Contro la quarta quindi veramente si potrebbe decidere la stagione o parte della stagione. Ci sono tre punti di differenza tra il Chelsea e il City. Quindi stanno tutte lì, stanno veramente tutte lì. Eh beh vincente anche questo campionato c'è da dire assolutamente. Ed è stato la volta e quindi ci avviamo qua verso la conclusione della nostra trasmissione per ricapitolare appunto quello che è accaduto. In questa settimana è stata la volta anche della Scottish Cup con il sorteggio dei quarti di finale. Quarti di finale che vedono presente il Greenock Morton che diciamo si è qualificata a sorpresa. Nessuno avrebbe mai immaginato che Greenock Morton avrebbe potuto battere il Motherwell e invece c'è riuscito. Quindi gli accoppiamenti sono Greenock Morton contro Hearts, Celtic Livingstone, Aberdeen, Kilmarnock, Ibernian Rangers. Quindi abbiamo una bella sfida, Ibernian Rangers, una sfida dal sapore veramente antico. Quindi diciamo che qui anche se l'Ibernian, i Rangers c'è da dire che sono in gran forma in campionato, stanno tallonando la grande il Celtic e potrebbero, cioè ci credono, ci credono veramente. Quindi non è l'Ibernian che, almeno sulla carta, però tutto è possibile. Poi in queste competizioni tutto può accadere. Non c'è nulla di scritto su questo. No, assolutamente no. Assolutamente nulla di scritto. Luca, siamo in chiusura, ma vediamo un attimo la prossima giornata di Premier League, giusto per vedere quali sono le gare che ci aspettano. Vediamo se c'è qualche match particolare. Allora abbiamo Brentford-Liverpool, a occhio vediamo Manchester City-Celsea. È bella quella. Vediamo Manchester City-Celsea sabato alle 18.30. Quindi questo è un match di cartello. Questo è un match di cartello, da un lato un City super in forma, dall'altro lato il Chelsea che comunque ha bisogno di punti, è sempre affamato di punti. Poi abbiamo Luther-Manchester United, Everton-Crystal Pass. Questa è un'altra partita in chiave salvezza. Una sorta di spareggio quasi questo. Si giocherà nel Monday Night lunedì 19. Quindi questa è anche una gara da non perdere. Quindi diciamo come sempre, occhi puntati sulla Premier League anche questo fine settimana, ma non solo perché poi noi seguiamo tutto, quindi vi diamo conto di tutto, come sempre. Benissimo Luca. Allora noi abbiamo analizzato più o meno tutti i temi più importanti della settimana e ci salutiamo ricordando sia a chi ci sta guardando, sia a chi ci sta ascoltando su Spotify e su tutte le piattaforme in streaming, di scaricare l'app Ukegaccio, tra l'altro dove potete trovare anche tutti i podcast, tutti i nostri podcast, quindi potete ascoltare comodamente dall'app senza andare a impazzire su dove cercate. Ce l'avete lì, li prendete, li trovate e li ascoltate in macchina dove vi pare. C'è da dire una cosa, prima dovete pensare a un social di Ukegaccio, adesso c'è anche l'app. Adesso c'è anche l'app, cioè proprio non potete fare a meno di Ukegaccio, su questo non c'è dubbio, non c'è alcun dubbio, quindi non avete più scuse. Non avete più scuse, tra l'altro ringraziamo tutti coloro di qua che la stanno scaricando perché l'app sta avendo un bel successo, è stata su Play Store, è uscita ieri, e sta avendo un bel successo, quindi a noi fa molto piacere e questo ci stimola a creare contenuti sempre più unici che vi permettono di vivere ancora più da vicino il calcio d'oltremanica. Noi, caro Luca, ci vedremo con la ritenetta ritenazione mercoledì prossimo, però ci vediamo anche giovedì, quindi dopo domani, con un'altra puntata di Ukegaccio Social Pub. Avremo ospite Marco Parmigiani, un mio caro amico che ha vissuto tanti anni a Londra, ha visto tanti stadi, ha raccolto tanto materiale. Insomma, sarà una bella puntata, parleremo di stati, di calcio inglese, quello proprio vissuto sul calcio. Aneddoti. Aneddoti a non finire, su questo ne sono certo, quindi non mancate. Bene Luca, io ti ringrazio della compagnia. È stato un piacere, sempre un piacere parlare di calcio d'oltremanica. Sempre, sempre un piacere. Noi ci vediamo sempre qui, su kegaccio.com, tutto quello che gli altri non dicono sul calcio d'oltremanica. Buonanotte a tutti.